Anticipate rispetto alle monnezzare che partiranno oggi pomeriggio, perché in virtù dell'esigenza di doverci ritrovare al di sotto di questo edificio, non essere della banca ma essere in concessione della stessa, vorremmo far notare agli indipendenti e al responsabile che da me è già stato denunciato per gli atteggiamenti e i reati che ha prodotto precedentemente che tutto quello che abbiamo raccolto di Cicche e dei loro bigliettini dei Bancomat dovrebbe essere ripulito dagli stessi, perché? Perché sono in primis i dipendenti che è più tempo che passano fuori a formare che quanto le passino dentro a lavorare. E poi io mi chiedo, andate a lavorare, no? Ci viene detto, ma a quelli che non fanno un tubo dalla mattina alla sera e sono in questi uffici, andate a lavorare, non glielo dice nessuno? Noi intanto cominciamo a farvi notare che almeno i dipendenti potrebbero limitarsi ad essere più politi, visto che a casa loro, voglio sperare, non sputano per terra sul pavimento e quindi non capisco per quale motivo ci debba essere la loro saliva e la loro città buttata sul pavimento pubblico, visto che non è un pavimento privato. Almeno abbiamo chiarito anche a qualcuno che questo non è un pavimento privato. Noi glielo mettiamo davanti alla porta, verranno sensibilizzati magari dalla posizione di una ceneriera, di un portacenere, di un raccogli rifiuti, vediamo. Anche perché dinanzi a loro c'è un portarifiuti, basterebbe spegnerle lì e buttarle all'interno. Vediamo se può servire anche questo. Alla visione della loro monnezza, saranno sollecitati al cambiamento? Noi ce l'auguriamo. Alla prossima.